Potremmo parlare di questi prodotti anche nella versione dell'Experience. Abbiamo proprio in questo periodo creato un catalogo delicato all'Experience e vengono proposte all'albergatore. L'hotel di un certo livello che vuole stupire i loro clienti, dare una novità, una cosa esclusiva, può naturalmente organizzare una colazione, un aperitivo direttamente in piscina, avendo due vantaggi se vogliamo. Uno dedicato al discorso marketing dei social network, per cui il tuo cliente, il tuo ospite, al quale viene servita una colazione, un aperitivo direttamente in piscina, condivide questa esperienza sui suoi social network, a vedere anche i suoi amici cosa sta facendo questa colazione in piscina, in questo hotel bellissimo. Ed è un'esperienza particolare per il quale il cliente rimane piacevolmente colpito. L'albergatore, d'altra parte, ha un ritorno sia nel marketing che sul conto finale, nel senso che l'esperienza viene messa come extra nel conto del cliente. Questo per quanto riguarda il vassoio galleggiante, ma anche per quello che riguarda il tavolino galleggiante, dove poter servire la bottiglia di champagne. Abbiamo creato proprio l'experience dell'aperitivo in piscina con il tavolino galleggiante. In questo caso tu servi una bottiglia di champagne, di prosecco, eccetera. Hai il costo naturalmente della bottiglia ed è l'esperienza che ti viene proposta dall'albergatore.